Oggi vi parlerò di Virtuali T, un prodotto eccezionale per studenti, insegnanti o anche semplici, curiosi e appassionati del funzionamento del nostro corpo. Virtuali T è il prodotto giusto per chi cerca un modo coinvolgente, divertente e stimolante per studiare l'anatomia umana e per comprendere a pieno quale straordinaria macchina sia il nostro corpo. Si tratta di una maglietta che tramite app dedicata permette di visualizzare l'interno del corpo in 3D con tanto di guida virtuale. Una volta acquistata la t-shirt e scaricata l'applicazione non si deve far altro che aprire quest'ultima e seguire le indicazioni. Inizieremo in questo modo un affascinante viaggio tridimensionale all'interno del corpo umano, alla scoperta dello scheletro e degli apparati circolatorio, digestivo, respiratorio e urinario. Vediamo come funziona. Dopo aver installato l'app l'apriamo e inquadriamo la maglietta. Al posto della t-shirt come vediamo sul nostro dispositivo appare il corpo in 3D. Adesso possiamo iniziare ad esplorare lo scheletro o gli apparati che ci interessano. Accompagnati da una guida virtuale, il dottor Guanto. Salve, il mio nome è dottor Guanto e sarò il tuo specialista virtuale di fisiologia e anatomia. Esploriamo e impariamo a conoscere il tuo corpo. Scegli un apparato fisiologico e iniziamo. L'apparato cardiocircolatorio. Quando i tuoi organi lavorano duramente necessitano provviste come sostanze nutritive, succhi, il dottor Guanto e naturalmente ossidi. ribaldanti appunto il corpo umano. Possiamo anche catapultarci virtualmente all'interno di alcune parti come ad esempio il cuore, i vasi sanguigni, l'intestino tenue o addirittura a misurare la frequenza cardiaca attraverso la fotocamera. Non muoverti. 102 battiti al minuto. Abbiamo rilevato la frequenza cardiaca. Esistono inoltre numerose altre opzioni come ad esempio quella di fare la possibilità di prendere uno screen e di condividerlo, ma anche la possibilità di visualizzare il corpo in realtà aumentata, o ancora la possibilità di esplorare a 360 gradi il sangue in un vaso sanguigno. Ora siamo dentro a un vaso sanguigno. Puoi vedere che, sebbene il sangue sia un fluido, è anche composto da molte cellule, ognuna con un ruolo specifico. o ancora la possibilità di ingrandire e di esplorare all'interno di alcuni organi come ad esempio il cuore. Trovate in classe questa straordinaria app e vedrete che i ragazzi inizieranno ad adorare le lezioni di anatomia. Grazie a tutti.